Un gazebo dell'Unitalsi in Piazza Ciullo, una iniziativa benefica importante della quale parliamo con la signora Francesca Amato, alla quale chiediamo che cos'è l'Unitalsi e che cosa ci fate in Piazza Ciullo e quanto ci rimarrete. Noi siamo qua in Piazza Ciullo e a livello nazionale vendiamo le piantine delle olive che vanno a beneficio di questa Unitalsi che è un ente assolutamente di volontariato, infatti io sono una volontaria dell'Unitalsi che si occupa di trasportare gli ammalati nei vari pellegrinaggi, l'Urds e altri santuari. Noi ci occupiamo dei diversamente abili, cerchiamo di fare del nostro meglio per questi nostri fratelli che sono meno fortunati di noi, cerchiamo di dare un sorriso, un piccolo contributo dove possiamo, dove le nostre capacità arrivano. E' importante l'opera di volontariato, quanto rimarrete qua? Sabato e anche domani domenica? Sì, tutto il giorno, anzi invito tutta la cittadinanza di Alcamo a venire a comprare queste piantine di ulivo che tra l'altro si possono anche trapiantare, io ne ho una che ho preso l'anno scorso, due anni fa, tre anni fa, che è veramente un alberello. Non solo ai ulivo, ma contribuisci appunto a questo volontariato, a questa iniziativa.